C'è molta emotività rispetto ai vaccini. Non c'è alcuna correlazione dimostrata, se non una relazione temporale con la vaccinazione col vaccino AstraZeneca e l'evento nefasto. Ma non un nesso causale. Bisogna attendere gli esiti degli esami, bisogna essere molto cauti. Così il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, intervenendo a mezz'ora in più su Rai 3, riferendosi alla vicenda dell'insegnante morto in Piemonte che ha spinto la regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini AstraZeneca. Alcuni stati si stanno cautelando in maniera intensa, ma non c'è alcun rischio. La somministrazione di un vaccino del genere può comportare una risposta infiammatoria, ma la sorveglianza è tale che si può escludere una correlazione. L'EMA tra sette giorni emetterà un comunicato sulle reazioni avverse. Nessuno è grave su decine di migliaia di vaccinazioni effettuate, ha spiegato Palù. Sui vaccini, i benefici oltrepassano di gran lunga i rischi. «Invito tutti a basarsi sui dati della scienza», ha sottolineato il presidente dell'AIFA.